Dosi Plus, tecnologia per un dosaggio senza sprechi. Accendere la macchina. Schiacciando il tasto S appaiono sul display D1, D2, D3 e D4. Per programmare D1, premere P per alcuni secondi finché apparirà la sigla PD1. A questo punto, tarare la quantità di prodotto desiderata da iniettare utilizzando la barra rossa. Confermare la quantità voluta utilizzando il tasto P. Apparirà sul display la sigla PR1, il salvagoccia. Premere la barra per memorizzare i giri in senso inverso della macchina in funzione della fluidità del prodotto. Confermare col tasto P. Apparirà la scritta PP1, programmazione della sequenza automatica. Premere la barra rossa. Attendere i secondi necessari per cambiare il prodotto da riempire. Premere di nuovo la barra e il tasto P per conferma. Ora la programmazione sequenziale può essere attivata. Apparirà la barra e il tasto P. Quando si inserisce la tramoggia, premere il tasto verde T per far collimare gli incastri.